Sono ripresi questo pomeriggio gli allenamenti alla nave, una seduta pomerigliana incentrata sul lavoro atletico, non prima però di una bella strigliata da parte di Capuano alla squadra. Non c'era stata l'occasione o forse il tecnico ha preferito dormirci su prima di incontrare la squadra e analizzare con i propri uomini il perché del K.O. contro l'Aquila o per meglio dire le cause di quelle due amnesie difensive. Un dialogo è andato avanti per una mezz'oretta prima dell'inizio dell'allenamento che ha visto fermarsi box Salvatore Monaco e Sascha Cori. Per il primo solo qualche esercizio sul tappetino, per l'attaccante riposo assoluto, per un fastidio al costato che lo sta perseguitando ormai da qualche giorno e con il quale ha dovuto fare conti anche durante la partita di Team Cup. Domani seduta mattutina alla nave, mentre la sera alle 20.45 l'Arezzo sarà impegnato a città di Castello in amichevole contro gli uomini di mister Cerbella, tra i quali figurano diversi a Maranto. Su tutti Bernicchi e Luigi Rondiemè.